Sì, è un momento di profonda commozione, immagino. La dimensione del ricordo in genere è una dimensione privata, intima, ma domani, in occasione dell'anniversario del tragico evento, avremo questa giornata di partecipazione collettiva in cui omaggeremo la memoria dei nostri due ragazzi con la messa solenne, con l'intitolazione della strada e con la cerimonia del Consiglio Comunale che conferirà ufficialmente la cittadinanza onoraria al Teatro Verdi. Per quanto ci riguarda, il massimo onore, oltre alle istituzioni locali che sono di casa qui a Trieste, è avere la figura del capo della polizia. Ovviamente cerimonie come la messa, in particolare il Verdi, sono un po' più blindate, davanti alla questora invece ci si attende anche la partecipazione dei triestini. Sì, sicuramente negli ambienti chiusi come la chiesa e come il Teatro Verdi rispetteremo le normative Covid e la stessa cosa la faremo anche, voglio dire, qui sulla strada. Però sulla strada, sulla pubblica via, ovvero qui all'intersezione di Tor Bandena che da domani diventerà nel suo tratto prospiciente alla questura, rotta a De Menego e via del Teatro Romano, potranno avvicinarsi tutti i cittadini che ormai da un anno ci stringono in un abbraccio affettuoso. Tra l'altro voi domani consegnerete anche i disegni che fecero i bambini, i ragazzi di Trieste in memoria dei due agenti alle famiglie. Sì, ci eravamo riproposti nel momento in cui avevamo verificato la quantità e anche la singolare quantità di tutti questi disegni che erano stati lasciati con dei pensieri o pensierini, perché sono stati tanti i bambini, ci eravamo riproposti di farne una raccolta. Questo esercizio è stato toccante, un po' lungo, lo abbiamo terminato ed è stato assemblato un libretto che verrà domani consegnato alle famiglie in ricordo dei due ragazzi.